L'approvazione del bilancio consuntivo della Proloco di Fano si è trasformato in un veloce pro forma. Gli oltre 250 soci radunati alla cooperativa Tre Ponti per il consueto pranzo domenicale che raduna le oltre 25 associazioni di volontariato e di tanti volontari hanno dato vita ad un grande festeggiamento dove la gioia di contribuire al bene della città ha fatto sentire tutti una grande famiglia. Numeri quest'anno altamente positivi che fanno vedere un'attività importante della Proloco in questo 2016 ma un'attività importante del volontariato in generale, quindi di associazioni che si sono espresse a vari livelli. 270 mila euro di bilancio di cui un buon 40% derivante da sponsorizzazioni sono tutte risorse reinvestite. Il bilancio così è sempre in pareggio, dice Etienne Lucarelli. Ora però, archiviato il passato, la mente si proietta già alle iniziative, alcune delle quali collaudatissime per la prossima stagione. Rimangono le manifestazioni, cercheremo di farle crescere perché questo è il nostro obiettivo, partire dal basso e far crescere anche un po' un'identità all'interno della città, ma le parole dell'assessore ci hanno fatto ben sperare perché anche lui dice che crescerà l'impatto che ha la Proloco all'interno della città. Naturalmente il sostegno di tutta la cittadinanza è importante e per questo chi vuole può comunque iscriversi. Assolutamente, la Proloco è un'associazione aperta a tutti e vale sia il contributo di chi si vuole associare semplicemente ma anche il contributo di chi vuole partecipare attivamente. Intanto per associarsi il tesseramento parte adesso e ci si può associare in città, al bar Aurora hanno le tessere disponibili quindi ci si può recare lì, il costo della tessera è semplicemente 5 euro oppure in periferia ci si può recare qui alla cooperativa Tre Ponti dove al bar hanno le tessere.